Ciao! So che siete abituati a vedere il Don e non me, ma finalmente il vecchietto è di là che grattugia e finge di viettare sangu. L'altro giorno, mentre rientravo dalla produzione, lo vedo passare con questo fantastico barattolo. E io, che sono una curiosa una per natura, gli chiedo che cos'è e lui con la sua rara saccenza mi dice «Roba mia da portarmi in ferie» e io «No, Don, che cos'è?» E lui mi risponde che è una vecchia produzione che lui creava per i centri estetici con fattori di protezione zero. Come potete immaginare, ho subito richiesto al Don di confezionarmi un campioncino e di mettere il prodotto nel listino extra. Questo è il mio. È composto da beta carotene e mallo di noce e altri basi idratanti. Essendo un prodotto con fattori di protezione zero, ragazzi, vi sconsiglio fortemente di utilizzarlo alle prime esposizioni solari. Ora vi faccio vedere l'etichetta splendida che ha creato il vecchietto che grattugia. Allora, la crema latte abbronzante con mallo di noce iperico, olio di mandorle, beta carotene. Allora, ha un fattore, come vi ho già detto prima, di protezione zero da utilizzare per intensificare l'abbronzatura non nei primi giorni di esposizione al mare e da distribuire uniformemente sul viso e sul corpo, ovviamente la quantità necessaria su pelle asciutta. Potete anche utilizzarlo, perché ovviamente ha già una base di abbronzatura, o comunque, come abbiamo già detto prima, non è al primo sole, per intensificare, invece, gli ultimi giorni dell'esposizione al mare. Vi svelo un uso alternativo del latte super abbronzante con fattori di protezione zero. Tutte le mattine io lo indosso e lo utilizzo, ragazzi e ragazze, per fare shopping, lavoro, picnic, il marito che vi accompagna al mercato. E lo utilizzo proprio per prepararmi all'abbronzatura futura delle vacanze. E soprattutto perché a fine giornata, quando lo indosso, il mio colorito risulta più luminoso, più compatto e ovviamente abbronzato, come potete ben vedere. E ovviamente lo faccio anche per evitare di utilizzare nel periodo estivo le terre, che ragazzi sono sconsigliatissime. Ragazzi, piccolo spoiler, lo troverete nel listino extra, perché ovviamente il vecchietto ha deciso di darmi ragione, ma ad un patto. Se non facciamo numeri di vendite, ha detto che mi licenzia. Confido in voi, vi auguro delle splendide ferie, super abbronzati. Mi raccomando a quello che vi ho detto, a presto dalla Vale!